FITNESS Io uso un manubrio però potete usare benissimo anche una bottiglia d'acqua l'importante è l'esecuzione come dico sempre Allora partiamo posizione di partenza chiudiamo Mi raccomando il controllo del corpo e cerchiamo di mantenere l'equilibrio la testa la testa quando salvo non si piega la testa guarda dritto in fronte in alto ok Obliqui mi raccomando come li faccio io ok mano dietro la testa posizione di partenza ci concentriamo qua ok vai quando salvo la testa è dritta questo è un po' tosto mi raccomando cerchiamo di mantenere l'equilibrio ed è come praticamente arrampicarsi di prendere un accordo ok l'equilibrio è importante sempre concentrati qua allora posizione di partenza e poi via andiamo a ruotare leggermente quando saliamo ok ok allora ponte saltato questo non lo possono fare tutti questo è un po' tosto quindi mi raccomando se siete veramente preparati l'addome deve essere contratto e quindi la testa discorsamente qua ok proviamo provateci se sentite dolori fermate la posizione di partenza è questa classico ponte core contratto addominali contratti e poi cerchiamo allarghiamo chiudiamo ok occhio alla testa eh non così basta allora per i glutei adesso il classico squat ma useremo anche l'isometria vediamo mi raccomando il movimento eh fatto bene a questo punto ci fermiamo in isometria in modo che facciamo bruciare meglio la parte 4 3 2 1 1 e torniamo su poi ancora isometria 4 3 2 1 e torniamo su attaccati senza perdere tempo squat jump allora posizione partenza classica salto ok ok allora siamo a terra un ulteriore esercizio per i glutei e andiamo veramente a rassodare tonificare bene e bicipiti femorali quali sono? la parte posteriore della gamba che noto che insomma le fanno vedere in pochi sono importanti e la parte anteriore ma anche la parte posteriore vediamo posizione di partenza è questa qua rivolti verso davanti alziamo e incrociamo ok sentirete proprio contrarre i glutei bene ci riposiamo 1 2 secondi via ancora ragazzi allora abbiamo finito qui sullo sfondo del mare per avervi fatto una gradita sorpresa mi raccomando leggete la descrizione come dico sempre ed eseguite gli esercizi alla perfezione quindi curando il gesto tecnico vediamo ci vediamo al prossimo video un saluto un bacione ciao